ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale youtube e benvenuti in questo nuovo video in collaborazione con jpop che oggi mi dà la possibilità di parlarvi di la sirena cannibale manga scritto da hiroshi noda e disegnato da takairo wakamatsu uscito se non ricordo male a fine giugno a un prezzo di 6 euro è un manga che ho letto durante le mie vacanze mi è piaciuto molto divertente ma ve ne parlo tra un attimo quindi prima di andare a fare il solito accenno di trama andiamo a vedere come jpop confeziona ci confeziona questo manga lo fa tanto per cambiare nella migliore maniera possibile abbiamo la classica sovracoperta che ci nasconde sotto una copertina differente ottima la qualità della carta direi anche molto comode le dimensioni di questo manga che ci permette di leggerlo in maniera comoda anche se siamo in giro ma cosa parla la sirena cannibale parla della principessa sirena era appunto vive in fondo al mare e svolge diciamo le mansioni di una principessa sera quella appunto di governare il mondo sottomarino lei purtroppo è molto diciamo così preoccupata del suo popolo perché esistono gli uomini in superficie che pescano i suoi amici i suoi amici pesci i suoi amici tonni e quindi vengono mangiati lei un giorno decide di salire in superficie assumendo delle sembianze umane perché appunto lei ogni volta che sale in superficie perde diciamo la classica coda da pesce diventa una ragazza normale entra nel ristorante in cui sta per essere cucinato il suo amico tonno striato e cosa succede lei assaggia questo tonno cucinato dagli esseri umani e da quel momento è amore diciamo a prima vista del cibo degli umani lei diventa pazza di sushi diventa praticamente una droga e da quel momento inizia una lotta interiore perché lei chiaramente è una principessa sirena a cui vuole a cui vuole molto bene al proprio popolo ma però c'è anche diciamo lo stomaco che reclama la voglia di mangiare sushi o comunque del pesce cucinato come lo cucinavano appunto gli uomini e vi dicevo è un manga che a me è piaciuto tantissimo perché la storia è abbastanza originale non avevo maletto una roba del genere ci sono un sacco di non senso insomma è un manga interessante non è ragazzi il classico shonen manga quindi non ci sono scene di lotta o di che diciamo che anche dialoghi sono sono dialoghi abbastanza elementari non abbiamo chissà quale eccitazione o chissà quale profondità di concetto all'interno di questo manga è un manga leggero che va letto secondo me in maniera molto tranquilla appunto mentre siete in vacanza o magari in un momento di relax perché è un manga che secondo me nei prossimi numeri comunque ci terrà attaccati alla lettura a me è piaciuto tantissimo io non sono un grande fan di questo di questo genere però mi ha divertito appunto perché la storia è molto molto interessante quindi io vi consiglio assolutamente la sirena cannibale di j pop ok ragazzi noi siamo giunti al termine però prima di salutarvi come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati tutti i video che ricordo da qua in avanti un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto commentate condividetemi seguitemi su instagram attivate la campanella per rimanere aggiornati tutti i video che metterò sul canale troverete la recensione scritta della sirena cannibale sul sito di nergate troverete il link in descrizione e noi ragazzi ci vediamo qua sul mio canale youtube ad un prossimo video un saluto da shido al prossimo video